bere questi tè può avere conseguenze terribili per il tuo benessere il terzo tè della lista ti sorprenderà nessuno neanche lo sospetta una tazza di tè caldo è una bevanda rinfrescante e rilassante sono considerati degli affidabili alleati della salute molti di loro hanno la capacità di trattare e persino prevenire le malattie ma quando si parla di tè non tutto è perfetto infatti molti di essi sono altamente elaborati e possono contenere sostanze nocive per l'organismo ci sono quattro tipi di tè che non dovresti assolutamente bere vuoi sapere quali sono il primo è il tè di comfrey si tratta di una pianta che è stata utilizzata per secoli per trattare diversi problemi di salute come allergie bronchite e artrite sebbene sia considerato un ottimo rimedio naturale può essere pericoloso se consumato per via orale in grandi quantità questo perché la comfrey contiene una tossina che può danneggiare gravemente il fegato tuttavia la pianta è considerata sicura se utilizzata in altre forme come ad esempio per via topica sulla pelle un altro tè molto comune che dovresti evitare è quello di cava cava viene spesso consigliata per il trattamento dell'ansia e delle infezioni del tratto urinario ma ci sono molte controversie sulla sua sicurezza alcuni rapporti affermano che questo tè può danneggiare il fegato a causa della mancanza di prove evidenti molti paesi hanno deciso di vietarne l'uso in caso di dubbio è meglio evitarlo ti stiamo aiutando a prenderti cura della tua salute in qualche modo perché non ti iscrivi al nostro canale bastano due secondi e sarai avvisato ogni volta che pubblicheremo video con informazioni importanti come questo il terzo tè della lista è il tè nero sì il diffusissimo tè nero consumato in varie parti del mondo è un tè delizioso e ha molti benefici tuttavia alcuni studi condotti sul tè nero hanno portato alla luce dati allarmanti metalli pesanti come arsenico cadmio e piombo sono stati identificati molti campioni di tè venduti nei supermercati a lungo andare questi metalli possono danneggiare il cervello e aumentare il rischio di cancro infine il tè alla liquirizia contiene un componente bioattivo che può causare ipertensione e aumento del volume del sangue per questo motivo alcune agenzie sanitarie governative di tutto il mondo raccomandano di non consumare più di 10 milligrammi di questa sostanza al giorno una tazza di tè alla liquirizia contiene tre volte la quantità raccomandata pertanto è meglio moderare o evitare il suo consumo e se consumi spesso tè in bustine abbiamo una brutta notizia molte di loro sono contaminate da una sostanza ancora più tossica